gestione dell'acqua monta la protesta la giunta regionale istituisce egam ma diversi sindaci non ci stanno e sono pronti a rivolgersi al tar non vogliamo un nuovo carrozzone dicono no a un doppione di molise acque maltrattava la moglie ora allontanato da casa un professore in pensione di 66 anni di termoli deve stare lontano dalla famiglia lo ha stabilito il giudice di larino denunciato da parenti avrebbe picchiato per 18 anni la consorte anche davanti ai figli i contribuenti molisani più tartassati d'italia è quanto emerge da uno studio pubblicato da un quotidiano online intanto è stata sbloccata la mobilità in deroga 2014 per 1800 lavoratori isernia una frana minaccia contrada con occhia impensierire i residenti anche delle perdite d'acqua il comune è stato avvisato dicono i cittadini ma finora non si è visto nessuno calcio regionale domani calendari verranno presentate le gare di eccellenza e promozione ci sarà anche il presidente della figi città vecchio intanto domenica al via la coppa italia buon pomeriggio benvenuti al nostro tg delle 14 un nuovo carrozzone il doppione di molise acque si chiama egam ed è stato istituito dalla giunta regionale ma un nutrito gruppo di sindaci è pronto a rivolgersi al tar sentiamo tutti i dettagli nel servizio di apertura di anna maria di matteo si chiama egam ente di governo dell'ambito del molise per il servizio idrico integrato è l'ennesimo carrozzone che la giunta regionale guidata da paolo frattura ha istituito con delibera numero 285 del 15 giugno scorso un doppione della molise acque la società che attualmente gestisce le risorse idriche un nuovo ente che frattura ha deciso di imporre 136 comuni molisani sindaci infatti hanno tempo 60 giorni dalla data di ricezione della delibera per aderire all'egam pena il commissariamento scatteranno infatti poteri sostitutivi della regione e il pagamento delle spese a carico delle amministrazioni considerate inadempienti un ente che secondo molti rappresenterebbe il primo tassello per l'istituzione di un unico soggetto che gestirà tutta la partita finalizzata alla totale privatizzazione delle risorse idriche del molise ed è proprio su questo aspetto che un nutrito gruppo di sindaci ha deciso di dare battaglia e di impugnare la delibera di giunta dinanzi al tar al momento sono 15 comuni che hanno annunciato l'intenzione di non aderire all'egam e si sono rivolti all'avvocato massimo romano per sottoscrivere il ricorso altre amministrazioni comunali non hanno ancora preso posizione mentre il consiglio comunale di campo basso è stato convocato in seduta straordinaria per venerdì 21 agosto intanto si registra la posizione di netta contrarietà del sindaco di campo di pietra giuseppe notartomaso come più volte denunciato ha fatto sapere questo atteggiamento di resistenza contro un attacco smodato al bene acqua nasce da valutazioni che portano ad un unico risultato quello che le lobby debbono mettere le mani sulle risorse idriche e nelle tasche dei cittadini senza alcun vantaggio per loro forse ha concluso il sindaco bisognerà ripartire da una legge adeguata o l'ennesimo referendum per riportare l'acqua a quello che è il bene più prezioso che va sottratto al controllo agli interessi privati delle multinazionali e mentre i sindaci si organizzano e si preparano a dare battaglia l'iter sull'organizzazione del legam va avanti spedito la nomina del commissario straordinario dell'ente in attesa dell'individuazione del direttore la costituzione di un ufficio speciale per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative del legam insomma altri incarichi altre prebende il tutto a carico dei contribuenti molisani che risultano essere tra i più tartassati d'italia altro che il molise di tutti annunciato da fratture in campagna elettorale questo sembra essere il molise dei pochi sì dei pochi eletti Sbloccata la mobilità in deroga 2014 per 1800 lavoratori lo rende noto l'assessore regionale al lavoro Michele Petraroi al termine di un confronto regione ministero ogni lavoratore ha spiegato il vicepresidente dell'aggiunta riceverà le somme aspettanti per il 2014 se ne ricorrono i presupposti potrà ripresentare istanza anche per il 2015 grazie al decreto sull'area di crisi potrà fruire delle politiche attive per il lavoro con opportunità formative di riqualificazione professionale orientamento reinserimento occupazionale e o ricollocazione un risultato ha concluso Petraroi ha raggiunto grazie all'impegno unanime della commissione regionale tripartita e di tutte le rappresentanze sindacali imprenditoriali istituzionali che ne fanno parte La cronaca un professore in pensione di 66 anni di Termoli su ordine del giudice di Larino D'Alonso è stato allontanato da casa padre padrone e marito violento per 18 anni avrebbe picchiato la moglie anche davanti ai figli piccoli la denuncia è partita da alcuni parenti sentiamo Manuela Iorio 18 anni di violenze calci e pugni anche solo perché il piatto preparato non era di suo gradimento o magari perché c'era troppo sale ogni scusa era buona per picchiare la moglie anche davanti ai figli piccoli per distruggere mobili o scagliare oggetti una moglie remissiva che ormai aveva accettato quel marito e quella vita tanto che non lo ha mai denunciato lei impiegata non è mai stata nemmeno al pronto soccorso nonostante gli evidenti lividi che le botte le lasciavano sul corpo si inventava scuse per giustificare quei segni ma poi alcuni parenti della donna a conoscenza delle violenze hanno deciso loro di dire basta rivolgendosi al commissariato di Termoli per denunciare quel padre padrone e marito violento lui ha 66 anni ora in pensione ma è un ex insegnante è stato allontanato di casa e non può più tornarci non può nemmeno contattare la moglie e i figli che ora non vivono più a Termoli a deciderlo è stato un provvedimento di natura cautelare firmato dal giudice d'Alonso su richiesta del pm luca venturi che ha seguito le indagini ha ricostruito un quadro di sudditanza psicologica e fisica della moglie al marito il professore era stato capace di instaurare un clima di terrore al punto che la moglie minimizzava ed evitava di denunciare per paura di ritorsioni in tanti anni solo alcune volte lei era riuscita ad allontanarsi di casa lo faceva per i figli ma per poco è sempre ritornata tra quelle mura fatte di violenza gratuita e di umiliazioni ora quel marito violento è lontano e forse lei potrà ritrovare in quella stessa casa un po di serenità l'attenzione verso il fenomeno della violenza soprattutto domestica resta alto e il messaggio che la polizia di stato vuole lanciare alle donne è quello di avere fiducia nelle istituzioni perché solo denunciando è possibile ricevere aiuto per liberarsi da una vita di soprusi e violenze I poliziotti della squadra volante di Isernia hanno denunciato in stato di libertà una 24enne incensurata trovata in possesso di una decina di grammi di eroina nel corso di un servizio di controllo dei passeggeri che viaggiavano a bordo dell'autobus Roma a Campobasso l'attenzione della polizia è stata richiamata da una persona con un comportamento sospetto e nervoso invitata a scendere è stata controllata mostrando il contenuto della sua borsa la droga era occultata in un involucro di cellofan in un pacchetto di sigarette la donna è stata quindi accompagnata in questura per gli accertamenti di rito e la sostanza positiva al narcotest è stata sequestrata i contribuenti molisani sono tra i più tartassati d'italia è quanto emerge da uno studio pubblicato da un quotidiano online sentiamo enzo di gaetano l'aumento impressionante delle imposte locali imu tasse addizionali varie non ha colpito in ugual misura su tutto il territorio nazionale elaborando i dati provenienti dalle rilevazioni di banca italia il sole 24 ore next quotidiano hanno presentato quali tipi di famiglie in quali territori del paese i rincari hanno colpito più duramente per due tipologie di famiglie reddito alto e reddito basso le prime posizioni a livello nazionale vengono occupate proprio dalla nostra regione il molise a dimostrazione della scellerata politica fiscale adottata da amministrazioni regionale provinciali e comunali si pensi che per quel che riguarda le famiglie a reddito basso che c'è non raggiungono i 18 mila euro di reddito l'anno il molise è quinto a livello nazionale con l'aliquota delle tasse locali che è del 4,9 per cento per quelle a reddito alto che c'è raggiungono o superano i 43 mila euro il molise è addirittura terzo in gradatoria nazionale con l'aliquota del 7,4 per cento un vero e proprio bagno di sangue o una rapina sarebbe meglio dire visto lo stato attuale della sanità delle strade dei servizi e di tutti i beni che le amministrazioni dovrebbero dare in cambio delle tasse ma le nostre tasse ricordando sempre che in molise la benzina è la più cara d'italia servono a pagare i mega stipendi di politici e dirigenti pubblici che non hanno alcuna vergogna di riscuotere centinaia di migliaia di euro l'anno in cambio del nulla offerto ai propri concittadini prima il federalismo ha gonviato il ruolo delle tasse locali poi la crisi di finanza pubblica ha impedito di compensare questa dinamica con l'alleggerimento del fisco locale e quello che doveva essere uno spostamento del carico fiscale dal centro alla periferia si è trasformato in una duplicazione di imposte fra Roma e i territori un problema non da poco che si aggrava quando si guarda la sua geografia perché a pagare il federalismo dimezzato sono stati chiamati prima di tutto cittadini e imprese delle regioni del sud in pratica nelle aree del paese dove la ricchezza inferiore si è scatenato una spirale perversa tra bilanci pubblici zoppicanti e aliquote in crescita con il risultato che il rapporto al reddito il carico fiscale maggiore dove la qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni regionali e locali è più in affanno una lieve scossa di terremoto senza danni a cose e persone di magnitudo 2.2 è stata registrata in molise questa mattina le 5 52 dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma si è verificato in provincia di campo basso con epicentro nei pressi di cerce maggiore a una profondità di 11 chilometri la lieve scossa è stata avvertita anche in altri comuni nel raggio di 10 chilometri e una scossa leggerissima di magnitudo 1.4 invece è stata avvertita Castel San Vincenzo l'epicentro Castel San Vincenzo e dintorni un movimento franoso e una perdita d'acqua mettono a rischio l'abitato di Contrada Conocchia Isernia il comune è stato avvisato ma come dicono gli abitanti della frazione finora non si è visto nessuno sentiamo ancora Enzo Di Gaetano una borgata abbandonata nel degrado si tratta della frazione Conocchia Isernia dove negli ultimi mesi si va sempre di più aggravando uno smottamento franoso che incombe su una casa in costruzione il palo della luce parla chiaro l'inclinazione è evidente una frana che potrebbe peggiorare ancora di più visto che c'è anche una perdita d'acqua abbastanza importante che insiste sullo smottamento il grido d'allarme dei residenti di Conocchia sembra però non aver destato alcun interesse negli uffici comunali. Questo problema si è verificato quasi un mese fa dove è stato segnalato al comune di Isernia è venuto il tecnico a verificare il danno però da quel giorno non si è visto più nessuno per la riparazione. Come avete visto questa rottura del tubo si trova su una frana che da oltre due anni ormai avanza sempre di più verso una casa che è in costruzione. Qui ci sono tantissimi bambini che giocano nelle vicinanze di questa frana ma nessuno si preoccupa di questo. Questa frana è stata segnalata da oltre due anni e non aspettiamo altro che qualcuno venga a fare i lavori dovuti perché ricordo a tutti che i cittadini delle borgate pagano le tasse come li pagano i cittadini del centro di Isernia. Questa rottura di questo tubo che si trova sopra questa frana quindi aumenta la possibilità che questa frana possa ormai franare del tutto e quindi provocare danni, speriamo che non si verifichi mai, ma anche danni irreparabili. Nessuno fa niente, nessuno si preoccupa di questa situazione. Noi paghiamo la tasse come la pagano i cittadini di Isernia, i servizi sono sempre di meno e a questo punto io voglio rispondere anche al sindaco che ha detto che la minoranza ha votato contro la diminuzione delle tasse, ma quale diminuzione? Il 3 per 1000 significa 30 euro su 700 euro. I cittadini delle borgate, i servizi offerti ai cittadini delle borgate non sono assolutamente uguali a quelli del centro di Isernia e questa è la prova, questa è la prova. Questa buga se si verificava al centro di Isernia già era stata riparata. E non c'è solo la frana e la perdita d'acqua che preoccupano i residenti di Conocchia, sono le complessive condizioni di degrado della borgata che alimentano le loro proteste ogni giorno. Qui c'è la mendera in tutto perché l'erba non viene pulita, i rifiuti sono sempre di più ma come si può ben vedere sono pieni e nessuno li svuota. Io non so più a chi appellarmi, io qua non so che cosa bisogna fare. Sono state fatte 40 borse di lavoro ai Sernia, date 40 borse di lavoro. Parecchi di queste persone si occupano proprio della pulizia del verde al centro di Isernia, ma come mai non vengono inviate anche nelle borgate? Perché le borgate devono essere, bisogna sempre rivolgersi più volte con telefonate, con lettere di avvocati per avere un minimo di servizi. Diversi alberi piantati a novembre dell'anno scorso in alcune zone di Campobasso dall'amministrazione comunale non hanno avuto vita lunga, lo denuncia il consigliere del Movimento 5 Stelle Simone Cretella. Le piante, ha spiegato l'esponente della minoranza Palazzo San Giorgio, messe a dimora a regola d'arte dal fornitore con tanto di etichette esplicative, tutte perfettamente vegete, sono state in seguito pietosamente abbandonate al loro destino dall'amministrazione, ha aggiunto mai curate né irrigate, tanto che come facilmente prevedibile sono tutte miseramente morte con l'arrivo dell'estate trasformando il parco di Via Manzoni, già abbandonato a se stesso in un triste cimitero di alberi secchi, ha concluso Simone Cretella. Questa notte e domani notte a Termoli verrà effettuata la disinfestazione dal Comune, raccomandano di tenere chiuse le finestre, di non stendere la biancheria, di evitare di lasciare alimenti sui balconi e di tenere gli animali domestici al riparo. Adesso la pagina degli appuntamenti al Via Oggi in Villa De Capoa, la kermesse multiforme sul noir nell'ambito del cartellone degli eventi estivi a Campobasso. Cinema, teatro, dibattiti in una interessante rassegna culturale, sentiamo. Noir nero, più che un genere, un'atmosfera all'interno di generi mescolati dal poliziesco al giallo alle storie con gangster e investigatori privati in cui si muovono personaggi che non sono eroi classici ma anti-eroi spesso tormentati. Nella letteratura il re del noir può considerarsi Dashiell Hammett fino ad arrivare oggi a James Earl Roy. Nel cinema il chiaroscuro e il grandangolo, ambienti fumosi e sottofondo jazz hanno caratterizzato il periodo d'oro. Partito negli anni 40 del secolo scorso con capisaldi quali il mistero del falco, i gangster, giungla d'asfalto, l'infernale Quinlan e grandi registi come Orson Welles e John Huston. Ma il noir non è morto nei 60, si è arricchito poi di toni postmoderni. A Campobasso da oggi fino al 29 agosto un interessante kermesse multiforme dal titolo Kiss Me Deadly organizzata dall'associazione Telonius Monk e dal Comune l'assessorato alla cultura con diversi appuntamenti cinema, incontri dibattiti, teatro, letteratura. Raccoglie una rassegna cinematografica curata da Leopoldo Santo Vincenzo, avremo degli incontri con critici e scrittori del genere noir, una mostra mercato sul noir curato dalla scolastica e poi chiuderemo il 29 al Teatro Savoia con uno spettacolo teatrale sempre su un testo noir. Film degli ultimi anni di caratura internazionale e quelli programmati oggi il 20, il 24 e il 25 agosto alle 21 in Villa de Capua, il 26, 27 e 28 agosto altri tre noir alla sala Alfaville. Il 28 sarà proiettato il cinese Fuochi d'Artificio in Pieno Giorno, Orso d'Oro a Berlino l'anno scorso. Avremo i primi quattro film, le mie quattro proiezioni in Villa de Capua alla sera alle ore 21, poi ci sposteremo al Centro Culturale Exormi dove avremo dal 25 al 28 proiezioni, questi incontri appunto sul noir e la mostra mercato e il 29 chiuderemo al Teatro Savoia con lo spettacolo teatrale. E partirà questo pomeriggio a Bagnoli del Trigno la ventunesima edizione di Frammenti d'Antico, l'evento che fino a tarda notte propone uno spaccato tra storia, leggenda, tradizione e territorio tra i protagonisti, l'attore Caspar Capparoni e allora sentiamo le anticipazioni da Giuseppe Carriera. Conto alla rovescia per Frammenti d'Antico 2015, l'evento organizzato dalla Compagnia di Cultura Popolare La Perla del Molise. Come da tradizione oramai, il pomeriggio del 18 agosto è dedicato alla sfilata del Duca e della Corte con decine di figuranti in sontuosi abiti firmati dalla stilista Paola Donofrio. Dalle 18 l'attore Caspar Capparoni e Miss Molise 2014 Sara Affifella saranno i protagonisti principali della sfilata che colminerà dalle venti in una festa del borgo in cui musici, sbandilatori e artisti si alterneranno nei suggestivi vicoli e piazze. Un percorso gastronomico con circa 20 specialità locali, dall'antipasto al dolce, accompagna i visitatori, mentre in Piazza Olmo sarà ospitata anche la rappresentazione degli Cerv, la maschera dell'uomo cervo di Castelnuovo a Volturno. Tra i momenti attesi dal pubblico, il volo della fata all'approssimarsi della mezzanotte e il finale con l'incendio artistico del castello San Felice, oltre 20 minuti di fuochi di artificio che terranno con il naso all'insù i visitatori, attesi non solo dal Molise ma anche dalle regioni limitrofe e in special modo dalla costa triatica come accaduto nelle scorse edizioni. Ed è tutto pronto a Boiano per la sedicesima edizione del Versacrum, l'evento organizzato dalla locale sezione della FIDAPA con il patrocinio di Comune Regione. Sono quattro le scene principali che raccontano fatti di epoca sannitica, rappresentate con il coinvolgimento di oltre 200 figuranti. Inizio della rappresentazione questo pomeriggio alle 19 e 30. Ieri sera a Frosolone una delle tappe regionali di Miss Italia per l'accesso alla finalissima di Esolo prevista per il 20 settembre. Nella splendida cornice del ristorante Pizzeria Antichi Sapori di Colombina, 18 ragazze si sono sfidate tra prove di ballo, sfilate e spazi per farsi conoscere e parlare un po' di sé. La serata condotta da Lidia Morelli ha proposto anche momenti di danza realizzati dalla coreografa Giulia Moreina. Le quattro ragazze premiate a Frosolone hanno ricevuto un bracciale in oro bianco e per le Miluna, ospite dell'evento Miss Molise 2014. Sara Affifella, Marisa Cassano, 19 anni, ha vinto la tappa di ieri conquistando la fascia di Miss Sportlotto Molise e accedendo alle prefinali nazionali. Il prossimo appuntamento con la finale regionale di Miss Italia è previsto per domani sera all'hotel Miralago a Macchiaval Fortore alle 21. Una tre giorni all'insegna del gusto, della musica e della birra bavarese. A Frosolone è iniziata ieri sera la decima edizione della Brower Fest al Queen Valley Irish Pub. Tantissimi visitatori già nella prima serata. Allora sentiamo Valeria Farina. Gusto, sapori, divertimento e tanti amici. Sono stati questi gli ingredienti giusti per festeggiare il decimo compleanno della Brower Fest del Queen Valley Irish Pub di Frosolone. Un compleanno all'insegna della musica, dell'ottima birra tedesca e dei piatti tipici della tradizione bavarese. Dallo stinco di maiale con le patate ai wustel nelle sue più disparate varianti con la novità di quest'anno del pollo allo spiedo. Una tre giorni organizzata dallo staff di Luigi Fiani che chiude gli eventi estivi prima della fine delle ferie per i tanti ospiti arrivati da ogni parte del Molise. E a quanto è parso anche a retta Berti lo stinco di maiale è piaciuto davvero tanto. È un po' il cavallo di battaglia del Queen Valley. Sì, noi abbiamo iniziato con lo stinco e variamo altri prodotti però lo stinco non lo cambiamo mai perché è proprio buono. Ci riesce bene, la gente è soddisfatta e perché cambiarlo? Ogni anno davvero registri presenze da record. Come reagisce il tuo pubblico, la tua clientela a questa festa? Come risponde? Ma risponde bene perché stasera è arrivata gente da Napoli, ci chiamano da tutte le parti. Ormai è risentita e anche nei paesi limitrofi più che altro ci aspettano questi tre giorni. Più che altro oltre a venire a degustare i nostri prodotti la sera dalle 8 e mezza alle 11, 11 e mezza, poi arrivano i ragazzi, arrivano i giovani che ormai come dicevo anche l'anno scorso questa è una festa dell'amicizia e del ritrovo. Sorpresa per il Queen Valley e per i tanti avventori è stata la casuale ed inaspettata presenza di Orietta Berti che essendo in zona per una tournée estiva ha deciso di provare i gusti e i sapori della Brower Fest del Queen Valley. Signora Berti, le piace il nostro Molisa? Mi piace molto, è un posto meraviglioso ma soprattutto a parte il panorama che è in tutto il paese, è molto bello, mi piace la gente perché la gente è affettuosa, cordiale, gentile, molto educata. La birra è ottima, poi c'è Louison che è un amico quindi noi ogni anno per tradizione veniamo a questa festa per dare onore a questa festa perché è una cosa organizzata molto bene quindi ci fa piacere venire. Signor Giuseppe invece lei cosa ha mangiato questa sera? Wuster pure io con il mio sogno. E come li ha trovati? Perfettamente ottimi, ottimi. E' una novità per lei assaggiare questi sapori, questi gusti o di solito li mangia anche a casa? No, ci veniamo tutti gli anni perché non possiamo mancare, è una grande cosa. L'appuntamento prosegue anche oggi e domani nella zona industriale di Frosolone. E ultimi preparativi ad Agnone in vista di una delle fasi finali del prodotto topico, l'itinerario evento alla scopertà di oltre 40 specialità gastronomiche locali appartenenti a 30 comuni di Molise, Abruzzo e Marche. Giovedì 20 agosto dalle 17 momenti istituzionali e di degustazione. Sentiamo le anticipazioni nel servizio ancora di Giuseppe Carriera. Con la proclamazione della sagna lucuttora avvenuta a Castiglione Messermarino si sono chiuse le selezioni locali della seconda edizione del prodotto topico, ossia del luogo. Il lungo percorso culturale e gastronomico partito lo scorso marzo a Liscia ha attraversato 30 comuni di Marche, Abruzzo e Molise, nei quali i rispettivi sindaci hanno proclamato il prodotto identitario dell'arte culinaria locale. I 30 comuni saranno tutti assieme ad Agnone giovedì prossimo 20 agosto. Alle 17 la cerimonia solenne nella quale il sindaco Carosella darà il benvenuto ai colleghi del circuito topico. Alle 19 l'apertura degli stand nei quali sarà possibile degustare 40 prodotti. Alcuni comuni nello stesso piatto infatti metteranno più specialità. È il caso dei noti formaggi di Frosolone della stessa Agnone, di Palmoli che presenterà sia la polpa di ventricina che la ventricina stessa, di Palombaro che presenterà il comiglio porchettato e la pizzetta fritta con farina di solina e salumi locali. E poi innumerevoli animali, capre, polli, maialini, porchette e tacchini alla canzanese. Oltre ai gustosissimi primi piatti con carciofo, tartufo, fagioli e cozze, al peperoncino, al sugo di capra, vi sono anche quelli legati alla terra e alla civiltà agropastorale come melanzane, marchigiane e vastesi, pizza e foie, mazzarelle terramane, pizza scima, polenta con salsiccia e zuppe e zuppette varie. Non mancheranno i dolci della tradizione, come fiadone, turcenilla e tarallucci, un assortimento di storia ed identità gastronomica che sarà realizzato in esclusiva a Agnone giovedì 20 agosto e il successivo 29 agosto a Vasto dove sarà proclamato il prodotto topico delle tre regioni, scelto da una giuria di esperti preseduta dal fondatore della condotta vastese di Slow Food, Raimondo Pascale, che a Agnone sarà chiamata all'ardo compito di assaggiare per valutare i 40 prodotti in lizza. La volontà di mettere a rete i prodotti identitari di città e paesi, da importanti capologhi di provincia come Teramo a piccoli borghi come Lentella, Caroviglia o Cavia Picena, è scaturita da un'analisi qualitativa fatta con il Dipartimento di Sociologia della Università d'Annunzio di Chieti, con cui sono stati analizzati i motivi per i quali tanta gente, giovani compresi, passa il proprio tempo libero a cucinare e offrire a prezzi contenuti i prodotti della tradizione. Un connubio tra la simpatia dell'orchestra italiana Bagutti e il gusto autentico del tartufo raccontato in una puntata di Viaggio in Molise in Onda. Da oggi dedicata la sagra del tartufo principe che si è svolta a Sant'Elena Sannita. L'evento ha richiamato migliaia di buon gustai e appassionati di ballo, ma vediamo un piccolo spaccato della puntata. Buon cibo e buona compagnia, sapori autentici e voglia di ballare, così la sagra del tartufo principe ha richiamato a Sant'Elena Sannita nell'arco di tre giorni tantissimi buon gustai e appassionati della musica dal vivo. L'attrazione clou era rappresentata dall'orchestra italiana Bagutti, che ha accompagnato la serata con tante canzoni da ballare dalla tradizione emiliana fino ai ritmi latino-americani. Presente eccezionalmente all'evento il maestro Franco Bagutti, fondatore della storica orchestra. Ho fatto 700 chilometri con il mio autista perché volevo venire a vedere questa festa del tartufo. Sono rimasto scioccato perché questa allegria, tanta gente, il tartufo molto buono, perciò i 700 chilometri sono stati spesi bene. Sul palco con l'orchestra Bagutti anche un pezzo di Molise, il giovane ed effervescente trombettista Manuel Concettini di Gamba Tesa, con una poliedrica esperienza alle spalle e soddisfazione per gli organizzatori dell'evento che è stato articolato su tre giorni. I numeri parlano da solo, sono contento che è venuta tantissima gente, soprattutto da fuori. Hanno gustato i nostri prodotti, credo che siano piaciuti perché tutti i piatti sono vuoti. Sono felicissimo di questa edizione della Sagra del Tartufo. L'associazione Don Albino Jovic, la parrocchia Sant'Emidio, l'assessorato alle politiche sociali del Comune organizzano per domani, mercoledì 19 agosto, a Monteverde di Boiano, una serata dedicata a Nazario Caranci. Dalle 19 di domani dunque un approfondimento sulla ricerca e la cura di leucemie, linfomi e tumori con il dottor Giulio Giordano dalle 20, ne ha programma lo spettacolo Ballare e Vita con il gruppo Folk San Giovanni di Spinete, le scuole di ballo Erika Dance e New Style Dance. Sarà presente anche uno stand gastronomico. E tutto termina qui il nostro TG delle 14, dopo la sigla le previsioni del tempo, poi la linea ai colleghi dello sport. Noi ci rivediamo per gli aggiornamenti alle 15. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.